Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, oggi vi farò visitare un lago stupendo del Trentino. Ci troviamo in una fantastica zona delle Alpi, il parco naturale ad Amello Brenta. Il luogo esatto da cui oggi partiremo a piedi è il passo Campo di Carlo Magno. Siamo saliti in macchina arrivando dalla Varrendena passando per Madonna di Campiglio. La strada bianca forestale da cui partiremo a piedi la trovate sulla sinistra in direzione di Maro. Subito dopo il centrofondo che si trova sulla destra, superate la curva e sulla sinistra troverete la strada bianca. Da qui ovviamente proseguiremo a piedi per il primo tratto in quota. E superato un ponte procederemo per la salita camminando lungo il fiume. Dopo il primo tratto pianeggiante c'è un ponte, poi dove si attraversa un torrente e poi comincia la salita. Però qui è brecciata, si va verso Mal Gavigo. Poi da Mal Gavigo inizia il sentiero piccolo, la parte più bella, dove ci sono delle svolte. Dopo un tratto di salita arriveremo ad un pianoro. Lì dove il bosco fa quella specie di via, c'è il lago delle malghette. Lungo il pianoro sulla destra trovate la malga di Vigo e in fondo al pianoro troverete il cartello lago delle malghette. I sentieri che adoro. E' il gruppo del brenta. Appena arrivate al valigo vedrete il lago e sulla sinistra troverete il rifugio delle malghette. Ed eccoci arrivati al lago delle malghette. Ed eccoci arrivati al lago di Vigo e in fondo al pianoro di Vigo e in fondo al pianoro di Vigo e in fondo al pianoro di Vigo. Finalmente ho trovato le formiche e il formicaio. Vigo e in fondo al pianoro di 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 Vigo. Ovviamente se ti è piaciuto il video metti un like qui sotto, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video, ciao!